ma dov'è che stiamo andando a cercare a uno che c'è un orto qui vicino ma ci hanno rubato il volante ma non lo vedi che sto guadando io a dirlo ma non ci arrivi cosa ti stai riconigliendo deve essere la birra quella cosa ti fa così quando ne bevi troppa non mi fa così quando non ne bevo era pieno vai a vederla adesso vuoto ci deve essere passato brusco ma è minimo la c'ho i nervi a fulor di pelle ah io che brusco a sette anni la birra lo serve per la crescita cosa vuoi che diventi tutto educato e studioso come il figlio del vicino io no c'è sicuramente tu mi fammi toccare ma chi è questo dell'orto? è un tipo bassottino bassottino torchiato capelli rossi rossi ma il marito è stato in sugo? lui? è lui perché lo conosci? è certo è mio fratello mio fratello? e da quando? da quando è nato c'è dura? mai saputo ma cosa mai saputo che domenica eravamo a pranzo da mia mamma e c'era anche lui? la tua mamma ma tua mamma non è morta te ah ma quella è il cane ma poi cosa stai dicendo non lo conosci se ci ha fatto anche dati simone di nozze? e chi si ricorda ero ubriaco prima di entrare in chiesa e io a ma perché si è arrabbiato come fratello? perché si è messo a lancio e vaniglia nell'orto cosa ne frega? cosa me ne frega che sono entrato a rubarli da me e le arance e vaniglia mi fanno schifo brutto farabutto delinquente disgraziato ammo avevo fame sono entrato a rubare e cos'è il reato adesso? ma no tu mio fratello mammo sapendo che ci siamo noi in giro che possiamo andare a rubare frutta cosa fa e ti metti le arance e vaniglia? ecco perché bruce ha vomitato tutta la spremuta stamattina no quella ha vomitato perché hai messo sale al posto dello zucchero ci è diventato fine ragazzino comunque adesso lo cerco quando lo trovo lo zacco questo pugno che lo trovano in Austria dai canguri ma i canguri non sono in Romania? quelle sono le piramidi ma ne sai troppe ma secondo te dove lo troviamo? ma che domanda è al bar è sempre ubriaco poco poco ma non è lui? no mio fratello lo conosco e poi questo avrà minimo minimo 40 anni e il tuo fratello quant'anni? 39 però secondo me è lui è lui ammo è lui ma perché? perché uno adesso gli ha gridato ho un pezzo di merda e lui si è girato? si allora è lui aspettami qui vado lo accappotto e torno ammo mi raccomando una risa ben fatta e mio fratello ci tengo stai tranquilla allora sappi che gli piacciono i gelati, la pasta e fa collezione di figurine ma perché mi stai dicendo queste cose? così lo conosci meglio e ti avvantaggi vai tranquilla ammo io non ne ho bisogno di consigli specie se sono tutte così oh mi raccomando la canottina che è pulita eh vai tranquilla cosa ti sento mio fratello? niente ha solo picchiato eh lo vedo eh lo sento ma dimmi che la campione regionale di pesi massimi di pugilato ti sembrava brutto? mi sembrava inutile no era più utile a dirmi che faceva collezione di figurine ascom ma tu gli hai detto che le arancevaniglie ti fanno schifo? certo gliel'ho detto e lui? mi ha detto ah sei stato tu a rubarle? ho iniziato a vedere pugni arrivare c'è non accudivo mi sembravano 15 persone eh veloce eh veloce tocca andiamo a casa ghiaccio ce n'è il frigo no però facciamo così apriamo le arance in due terremoto dove sei gonfio va bene? ah io dai tanto arance ne abbiamo ah 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 Grazie a tutti.